salve a tutti da casa del papi capito fammi farvi senti allora c'è un problema totino cioè abbiamo passato tutti quanti una bella serata nel senso abbiamo magnato quindi quando mangi già stai bene però il finale della serata non ci è piaciuto perché totino vedete come sta totino ha fatto una scorreggina ragazzi miei che ve lascio immaginare che sono tutti scappati non c'è più nessuno a tavola qua se ne sono nati tutti è pieno d'aria però totino ogni volta che fa una scorreggina la mamma gli dice povero amore mio vero? poverino è pieno d'aria lui vale le scorreggine vale le scorreggine io l'altro giorno mi sono mangiato due carciofi da misoci non è vero non è vero non ho fatto niente a me è mai detta una cosa del genere questa e devo comunque denunciare in questo caso il maltrattamento del pavi quindi umano ok totino non le fa più mi raccomando e puzzano che corrono mamma mia uh-huh Grazie a tutti